vedete location nuova perché perché oggi mi va di fare il video così perché ogni tanto è bene cambiare sennò diventa sempre la solita monotonia e le solite cose scontate oggi di che cosa parliamo parliamo di un argomento che fa male a tutti parliamo di tasse ma soprattutto parliamo di quello che sta succedendo e mi sa mi sa ragazzi che ci stanno prendendo tutti per il culo vedetevi il video che peristi o automobilisti vabbè è uguale buongiorno buongiorno a tutti anzi buon pomeriggio sono le ore 18 e 30 e come vedete sta piovendo perché siamo in macchina perché oggi mandava così oggi mandava di cambiare come avete visto purtroppo ho perso un'altra volta la finestra anche se mi era solto qualche dubbio che me l'avessero rubata però mi sa che invece no l'ho perso un'altra volta non mi chiedete come ho fatto perché non lo so però a fatto sta la finestra ha salutato è andata via quindi ora ho già ordinato la finestra nuova e speriamo di non perderla di nuovo vabbè comunque prima di partire ovviamente volevo dare il benvenuto a noi iscritti ringraziarvi per essere iscritti sperando che questo canale vi aiuti a mantenere il vostro mezzo perfettamente funzionante di che cosa parliamo oggi signori parliamo di tasse tasse e che cosa sono le tasse sono quella quella scure appoggiata al nostro collo che permette mettiamola così di mandare avanti lo stato italiano dai diciamo così e che cosa è successo anzi che cosa sta per succedere ovviamente che cosa è successo la dichiarazione del ministro giorgetti che il ministro dell'economia di qualche giorno fa ha un po movimentato le acque che questa dichiarazione a che cosa faceva riferimento faceva riferimento a quelle che possono essere quello che si può verificare con l'aumento dei mezzi elettrici in circolazione quindi che cosa è che cosa è successo o che cosa sta succedendo sta succedendo che lo stato italiano si sta ponendo delle domande e secondo me detta tra noi ci sta prendendo anche un po per il culo si è posto questa domanda ma se in futuro i mezzi elettrici aumenteranno e diminuiranno i mezzi a motori endotermici quindi che fanno a gasolio e a benzina che cosa succederà alle accise presenti su quei carburanti cioè se aumentano i mezzi elettrici di conseguenza verranno venduti meno meno gasolio e meno benzina quindi di conseguenza vendendo meno litri di gasolio e meno benzina ci sarà meno richiesta e quindi di conseguenza ci sarà meno introito di accise presente sui carburanti nelle casse dello stato detta proprio soldone 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 quindi ministro giorgetti giustamente dice ops o cavolo e allora e come facciamo se le accise sui carburanti non ci saranno più o saranno diminuite noi come faremo a fare tutto quello che facciamo con le tasse presenti con le accise sui carburanti colpo di genio mettiamo le accise anche sull'elettrico quindi seguendo il discorso del ministro giorgetti ora non è decretato nulla non hanno detto nulla di certo però secondo me ci stanno ragionando sopra e se conti tornano vedrete che lo faranno loro che cosa vogliono fare vogliono traslare le accise presenti sui carburanti sui carburanti fossili ok sull'elettrico come faranno non è ben chiaro quando lo faranno non è ben chiaro ma non è soltanto cioè non bisogna pensare se lo faranno ma soltanto quando lo faranno quindi premier conte impegnato in un importante vertice in egitto ascoltiamo conte i miei cari preparatevi che secondo me tra un po scoppia la bomba e quindi ragionando da profani fatemi capire una cosa ci obbligate a comprare la macchina elettrica perché sennò inquiniamo troppo prima ok mettete al bando mezzi che hanno 4 5 6 6 7 anni validi perché secondo voi inquinano ok mi obbligate a comprare una macchina elettrica che implica che cosa una modifica totale della mia vita perché tanto ragazzi mettetevi come vi pare ma tanto una macchina elettrica ha delle peculiarità che implicano un modo cambiare il modus operandi di come utilizziamo il mezzo cioè noi dobbiamo capire che con l'elettrico possiamo fare determinate cose e altre cose non le possiamo fare un esempio la ricarica non può scendere al di sotto del 20 per cento non può superare l'ottanta per cento in buona sostanza che cosa vuol dire vuol dire che noi se andiamo a ricaricare una macchina non possiamo scendere al di sotto del 20 per cento ok quindi la macchina non deve mai arrivare sotto il 20 per cento stesso discorso quando andiamo a fare una ricarica la ricarica non deve superare l'ottanta per cento perché sennò rischiamo di danneggiare la batteria è ovvio non è una cosa che non va fatta mai può succedere che alcuni casi dobbiamo ricaricare il nostro mezzo fino al cento per cento ma questa ricarica del cento per cento deve essere funzionale ad un viaggio di lunga percorrenza ok quindi non è che perché siamo in città dobbiamo ricaricare sempre al cento per cento anche perché sennò la batteria saluta la curva ok questo è uno dei tanti esempi un altro esempio è che magari dobbiamo utilizzare la ricarica domestica e non quella con le colonnine pubbliche perché perché la ricarica domestica costa meno rispetto a quelle delle colonnine pubbliche un altro esempio quindi dobbiamo comunque sapere quando andiamo a comprare un mezzo elettrico che dobbiamo utilizzarlo o dobbiamo avere comunque nei pressi una colonnina elettrica o comunque dobbiamo avere la possibilità di ricaricarlo a casa in un garage piuttosto che nel nostro condominio quindi bisogna ragionare in maniera differente ok quindi mi fate cambiare modo di vivere mi fate cambiare ma mi obbligate a cambiare macchina mi obbligate a prendere un mezzo che implica un costo nettamente superiore a quello di un mezzo classico e in più mi mettete anche le tasse sulla ricarica cioè fatemi capire volete che noi inquiniamo meno ma allo stesso tempo volete che noi spendiamo di più c'è qualcosa che non mi torna lavoratori ma la cosa bella sapete qual è è questa io ragazzi certe volte boh ma io io ci stanno prendendo per il culo dai via diciamo le cose come stanno perché non non c'è versi dai io io su questi ragionamenti ci perdo la testa ci perdo allora per riassumere tassano probabilmente l'elettrico non si sa in che modo se sulla ricarica se sul veicolo non si sa che tassano l'elettrico però notizia di questi giorni fra qualche giorno se non fra qualche settimana ripartiranno gli incentivi per acquistare l'elettrico cioè fatemi capire mettete gli incentivi per acquistare una macchina che già so che non dovrò sostenere una spesa maggiore per la ricarica cioè io già parto del presupposto che comprerò una macchina che ora spendo 7 euro per fare 100 chilometri e domani ne spenderò 9 cioè ormai l'elettrico l'elettricità è equiparata alla benzina e gasolo quindi già lo era di default perché comunque era una fonte energetica e subiva gli andamenti del mercato ma in questo modo oltre a subire gli andamenti del mercato supera anche delle accise che prima non erano presenti quindi a questo punto la mia domanda è e presumo sia una domanda un po di tutti ma mi conviene davvero mi conviene davvero sostituire magari una macchina che ha 6 7 anni che ha 120 130 mila chilometri e che quindi in teoria ha una potenzialità di utilizzo di altri 200 mila chilometri gli altri 150 mila chilometri per passare una macchina che già so che comunque dovrà dovrà farmi cambiare il mio modo di vivere dovrà farmi cambiare il mio modo di pensare il mezzo sapendo che io comunque andrò a spendere già di più ragazzi o questi pensano che siamo tutti dei rincoglioniti o boh o qua davvero poi non ci lamentiamo se la gente scende in piazza perché poi oh insomma da retta un po va bene poi insomma anche qualcuno si stancherà no quindi in buona sostanza tra qualche giorno partiranno gli incentivi credo siano 8 miliardi qualcosa del genere per l'acquisto di una macchina elettrica non mi sono informato come verranno erogati come non verranno erogati però ci saranno gli incentivi per comprare una macchina elettrica o comunque a basso impatto inquinante e se comprate a questo punto io in tutta onestà vi dico non ho comprato una macchina elettrica dovete sapere che è probabile che fra qualche settimana fra qualche mese o il prossimo anno andrete a spendere di più per una ricarica quindi fatevi conto alla mano capite bene se è realmente il vostro mezzo idoneo per quello che fate perché la macchina deve ritagliarsi sulla mia vita non è che io mi devo ritagliare la mia vita la devo ritagliare su che macchina ho se no davvero diventiamo schiavi di un mezzo cioè io devo organizzare la mia vita i miei percorsi, le mie strade, le mie ferie in base alla mia macchina ma stiamo dando i numeri cioè ma siamo fuori di cervello mi sembra roba fantascienza almeno per quanto mi riguarda quindi se volete comprare un elettrico compratelo fate come meglio credete ma decidete ponderate davvero cercate di capire se realmente il mezzo elettrico può avvicinarsi alle vostre esigenze perché altrimenti diventerete diventerete schiavi del mezzo insomma e non è il caso non è il caso va bene signori scusate per lo sfogo io cosa vi volevo dire vi volevo di nuovo ringraziare ringraziare davvero tanto per l'iscrizione e le visualizzazioni volevo davvero ringraziarvi è una cosa che mi premeva tantissimo dirvi davvero per tutto quello che state facendo per questo canale ma ovviamente a te a te te che stai guardando e che non sei iscritto iscriviti clicca sulla campanellina che tanto il canale è gratis e non vi chiedo soldi e forse 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 vi posso dare anche qualche buon consiglio signori io vi ringrazio di nuovo e bene ci vediamo al prossimo video ciao